Ciao amici d'Italiato Games, buongiorno, lunedì 17 giugno, fra un secondo, davvero un secondo, un momento, un istante, andiamo a vedere le novità di oggi su The Football 2024, prima però una piccola rettifica al video di sabato, ho citato l'amico Nicola Smorcese e avevo detto che secondo lui i portieri erano peggiorati, c'è stata un'incomprensione da parte mia in un suo messaggio privato che mi aveva mandato, in realtà secondo Nicola il fatto che gli arbitri non fischiassero rigore per contrasti diciamo minori, per lui era un aspetto positivo, quindi per lui erano migliorati gli arbitri, ecco volevo fare chiarezza perché ho detto pubblicamente un suo pensiero, ogni tanto lo cito Nicola Smorcese di Videogamersland, l'avevo riportato male il suo pensiero perché ripeto a volte nella comunicazione scritta ci possono essere dei fraintendimenti nel tono, nelle parole eccetera eccetera, ecco volevo dirvi che secondo Nicola sono migliorati, io vi ho detto la mia, io invece ho trovato ancora gli arbitri molto simili alle versioni precedenti dopo il 3.6.0 in generale per me sono ancora da bocciare. Adesso però premiamo A e vediamo le novità di oggi e come avrete visto la copertina del video sono state confermate le prediction che avevamo fatto venerdì, venerdì mi sembra proprio venerdì e sono proprio loro tre. Maradona, no questo non ce lo fa vedere, dopo ve lo faccio vedere dopo, questo è il video uguale alla settimana scorsa, giovedì, qui ci sono i vari premi, vabbè la manutenzione a Maiconami è meglio che non mi esprimo perché sono i punti football, andiamo a vedere oggi se ci saranno novità, bonus di accesso, bonus di accesso, andiamo un po' a vedere sulle missioni perché ho visto se sarà acceso qualcosa, accede al gioco alla quinta volta, quindi accedendo al gioco alla quinta volta ho ottenuto 10 premi obiettivo e ho sbloccato un altro giro Francia, molto importante, e qui ancora dobbiamo ottenere altri tre obiettivi per sbloccare l'Argentina, un altro accordo al buio e poi ci saranno vari altri oggetti perché giovedì prossimo arriveranno altri obiettivi, tanti di voi mi hanno chiesto come faccio a prendere tutti i giri, ecco ci sarà da aspettare giovedì per arrivare almeno a 20 obiettivi, ma più o meno si dovrebbe arrivare, 100 monete di football si prenderanno con 7 accessi al gioco, quindi arriveranno mercoledì altre 100 monete e vi dico pure una cosa che io quando arrivo a 900 monete mi prendo anche il pack in Inghilterra che non mi dispiaceva affatto, non penso di prendere quello Argentina anche se pure lì ci sono i giocatori interessanti, vabbè ci penserò, c'è tempo, allora andiamo a vedere le novità di oggi, eventi e pacchetti, eccoci qua, allora in pvp che cosa abbiamo? Abbiamo un nuovo National Teams che parte oggi, entriamo, si deve scegliere sempre una nazionale, ma io scelgo sempre l'Italia, otteniamo almeno una vittoria e ci sono giocatori in prestito, 50 monete di football e poi andiamo a vedere gli altri premi che sono un'aggiuntabilità e due aggiuntabilità, il classico dei classici, il National Team c'era anche lunedì scorso, se non vado errato, comunque c'è questa settimana e ovviamente in ottica europea Copa America è normale, Golden Goal Limited sono arrivati giovedì, qui abbiamo lo United Team che continua con la Copa e invece qui c'è un altro National Teams, andiamo nei dettagli, puoi ricevere, anche qui vediamo un attimo come funziona, per sicurezza, qui non c'è da scegliere il, non c'è da scegliere la nazionalità, qui vediamo che ho tutti i giocatori che fanno bonus, tra i sostituti chi è che non mi fa bonus? Achimi, il Marocco poverino non c'è, ci sono tutti gli altri, non c'è Lukman, ecco quindi dovrò cambiare questi due giocatori se voglio arrivare al massimo dei bonus, vediamo qui pure, qui vedo che sono tutti, tutti, neanche il Giappone c'è, incredibilmente non c'è neppure il Giappone, quindi ci sono le nazionali sostanzialmente penso europee e sudamericane, perché visto Africa e Asia fuori, infatti anche Chupo Motting non fa bonus, neanche la Svezia, neanche la Svezia con luce, quindi allora non è una questione di Europa eccetera, forse le squadre che partecipano in Europa o alla Coppa America, comunque questo è quanto, i due solid national teams, per curiosità, per curiosità voglio andare a vedere il negozio dei punti football, se magari quel pack turco macchie, vabbè ragazzi, non ci si crede, non ci si crede, dettagli, vabbè per fortuna mi scadono fra tantissimo tempo i punti football, tra 75 giorni, arriverà qualcosa fra 75 giorni, ma che costa, mettere magari qualche accesso in meno con gli obiettivi, proprio, vabbè, mi sono espresso tante volte sui punti football, non ricomincio, andiamo a vedere il contratto, andiamo a vedere, eccoli qui, i tre giocatori, national midfielders, sono confermati tre che vi avevo detto nel fine settimana, stavo vedendo se c'era qualche altra novità, un vappello, Girofrancia lo giriamo domenica, andiamoli a vedere, purtroppo, pack da 150 giocatori, oltre alle tre leggende ci sono Agi, classico numero 10, c'è Rieder, classico numero 10, anche lui, c'è Frankowski, specialista di cross, CLD, c'è Gilmour, tra le linee, mediano, c'è Baumgartner, regista creativo, c'è Carrasco, specialista di cross, belga, c'è Jobosly, tra le linee, 31 livelli di crescita, potenza di tiro e tiro, 84 di base, e poi c'è Zubimendi, collante, mediano, ed infine le tre leggende, c'è poco da dire, Xabi Alonso tra le linee, 85, e vediamo che parte da passaggio alla sua terra, 85, passaggio alto, 83, calceva fermo, effetto più 2 di tecnica, e queste sono le abilità giocatore. Poi c'è il nostro Pirlo, tra le linee, anche lui bustato, ovviamente, ha il tiro a giro 88 di base, con 37 livelli di crescita, effetto più 2, e un bel po' di abilità giocatore, Italia 2012, quindi non è quello del mondiale vinto, pensavo che avrebbero messo quello, no, e vediamo che Xabi Alonso ha anche Spagna 2012. E infine, Diego Armando Maradona, trequartista, giocatore chiave, questo ci ho preso, è quello dell'Argentina dell'86, vediamo che di base ha dribbling 91 e possesso stretto 90, gestione del pallone, effetto più 2, un bel po' di abilità giocatore, 33 livelli di crescita, abbiamo visto gli overall, Maradona 100 senza l'allenatore, eccetera, eccetera, il Pirlo 99, Xabi Alonso 98, insomma, tre giocatori decisamente, decisamente interessanti, Xabi Alonso a me piaceva molto, ce l'avevo sul PlayStation 5, anche se non è questo, ovviamente un po' lento, ma per, come potete vedere, velocità 66, accelerazione 64, ma per il resto un muro, una colonna portante come mediano, su Pirlo e su Maradona c'è davvero poco da dire, e c'è davvero poco da dire anche su questo aggiornamento, molto molto di base, due eventini, pull, giocatori e basta. Allora, questa sera alle 20 si continua con il campionato, ieri ho cominciato bene con due vittorie nelle classificate, stasera si cerca di continuare bene, ma non si sa, ancora non le ho giocate, le gioco oggi pomeriggio, quindi questa sera alle 20 vi aspetto per continuare nella divisione 3. Domani mattina, domani mattina faremo un tutorial, e fortemente critico, nei confronti due elementi che vi mostrerò domani, un tutorial sulle due piccole novità di questo aggiornamento 3.6, e vi mostrerò anche quelle che io considero delle enormi criticità, ed è un peccato, ed è un peccato perché erano due elementi che potevano sicuramente dare di più a questo aggiornamento, ma comunque ne parliamo domani mattina. Comunque, questa sera alle 20 vi aspetto, salvo breaking news, se ci saranno breaking news mi rivedete sul canale prima, altrimenti ci vediamo questa sera alle 20, buon inizio di settimana e buon tutto, ciao!